L'Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Canicattì, con noi la dirigente scolastica Maria Ausilia Corsello, ha organizzato nei locali del Centro Culturale di San Domenico a Canicattì un incontro con il professore, il sociologo Francesco Pira. Si parla dei pericoli del web, l'importanza di questo incontro è che ci sono due momenti, uno alunni e docenti e l'altro alunni e genitori, perché è importante un lavoro in sinergia, appunto, famiglia-scuola. Sì, appunto, partendo dal prerequisito indispensabile che i pericoli che nasconde il web sono veramente tanti e che noi, non essendo nativi digitali, spesso sottovalutiamo alcuni aspetti. Abbiamo voluto fortemente questo incontro con il professore Francesco Pira, sia per mettere a corrente i nostri alunni di quelli che sono i tanti pericoli che il web nasconde, sia per parlare di bullismo, di cyberbullismo e tutto, in generale, tutti questi vari fenomeni che i media e i vari social, diciamo, trasmettono. In più, poiché è sicuramente indispensabile che ci sia questo collegamento tra i ragazzi e gli adulti, abbiamo voluto che ci fosse, appunto, questo incontro con i docenti e gli alunni e con i genitori e gli alunni stessi, proprio per fare in modo che un po' tutti condividiamo le stesse informazioni e sappiamo come intervenire nell'ipotesi in cui si dovesse verificare un qualche evento. L'istituto che lei dirige spazia dalla scuola dell'infanzia, alle elementari, alle medie, lo dico all'antica per capirci. Questi bambini di oggi nascono già digitalizzati e questo è il problema ed è difficile ancora di più seguirli. Trova, appunto, questi cambiamenti rispetto agli anni passati? Sì, devo dire che ormai i ragazzi riescono immediatamente a scaricare le varie app, a gestire i vari programmi, i vari social. Sicuramente è meglio di noi per quanto preparati o per quanto digitalizzati possiamo essere. Ma purtroppo a causa sia della loro età, che non sempre è un vantaggio l'essere giovani, non capiscono i pericoli a cui possono andare incontro, perché possono essere facili prede di pedopornografi, possono essere facili prede di persone che comunque non hanno intenzioni sicuramente civili o comunque buone intenzioni, perché possono sfruttare le informazioni che loro inavvertitamente e superficialmente trasmettono via web o via social al loro vantaggio. Magari, per esempio, il ragazzino, così come molti fanno, dicono che sta partendo per una vacanza e lasciano campo libero a chi magari può svaleggiare la casa. Ecco, queste cose che magari sono piccoli accorgimenti, ma che possono renderci la nostra vita più sicura e più tranquilla, è giusto che vengano divulgati ai ragazzi, venga fatto capire loro che quello che può essere una notizia per loro innocente, per loro, diciamo, anche un fatto di cui vantarsi, cioè il fatto di partire in vacanza, di andare, che so, a Dubai, bellissimo sicuramente, però può ingenerare la cattiva intenzione di qualcun altro. E allora fare capire loro che magari, sì, vai a Dubai, lo vuoi pubblicizzare, ma pubblicizzano al ritorno, almeno sei a casa. E questo però purtroppo lo fanno anche i genitori, perché ormai nessuno sta più attento. Ma le sono capitate segnalazioni particolari a scuola, magari di challenge pericoloso, ovviamente mantenendo sempre la privacy? Sono capitati questi casi a Canicattio? Ancora non no. Diciamo, sì, alcune challenge pericolose ci sono, nel senso che, più che pericolose, un po' dispettose, nel senso che creano disagio in chi le riceve o nei confronti di chi vengono lanciate. Per cui, appunto, quello che stiamo cercando di far capire anche con questo corso e non solo, perché per noi è un'attività quotidiana che viene fatta, è quello che lo scherzo, o i giochi, sono belli quando vengono accettati come tale. Quando lo scherzo, il gioco, diventa invece una sofferenza per l'altro, allora non è più un gioco. E tra l'altro, la cosa che ci preoccupa di più è comunque che questi ragazzini non capiscono che la diffusione di un'immagine, di un video, anche magari un po' particolare, sul web rimane. E quindi, magari un domani, che si ritroveranno ad occupare qualche posto di prestigio o, diciamo, di un certo rilievo, queste immagini potrebbero uscire fuori. E, appunto, stiamo faticando, perché oramai l'immagine sul web per questi ragazzini è diventata così importante, quasi da rendere più importante una vita virtuale rispetto a una vita reale. Però dimenticano che si va avanti con l'età, si va avanti con quella che è l'attività che ognuno di noi svolge. Oggi sono studenti e lo scherzo, quell'immagine viene accettata come studente. Domani, invece, saranno persone che ricopreranno un ruolo nella società. E quindi, magari, quell'immagine oggi stupida o scattata, appunto, per uno scherzo, può ritorcersi contro di loro. Il sociologo, il professor Francesco Pira, incontra alunni, docenti e genitori dell'Istituto Comprensivo Giovanni Verga. Si tratta di un progetto ad ampio raggio. Sì, noi abbiamo lavorato ad un PON, insieme ad un gruppo di ragazzi delle scuole medie, che si intitola Connessi Responsabilmente. Proprio da lì partiamo per comprendere che bisogna lavorare con i ragazzi, renderli protagonisti rispetto a quella che è la loro fruizione del web. E quindi capire che il web può essere motivo di condivisione, può far conoscere, quindi motivo di conoscenza, ma che ha tantissimi pericoli. A volte ci è capitato, anche incontrando ragazzi così piccoli, di sentire che, per esempio, sono curiosissimi di conoscere il dark web, che è un luogo pericolosissimo. E tutto questo ci deve far comprendere che dobbiamo lavorare tanto. E la scuola, insieme alla famiglia, rappresentano i due capisaldi per i ragazzi contro le devianze, che sono aumentate tantissimo. Siamo nella settimana della sicurezza informatica. La Polizia Postale dice che le devianze in rete, soprattutto tra minori, sono aumentate di oltre il 200%. E questo è un dato che ci deve far preoccupare e che soprattutto deve mobilitare famiglie e scuole, insieme, per affrontare questa emergenza educativa e dare, attraverso un'alleanza educativa, delle strade. In quali reti cadono principalmente i bambini, i ragazzini? E già a che età bisogna preoccuparsi? Ma è molto difficile individuare l'età, però devo dire che c'è una pericolosità che nasce soprattutto dalla quarta elementare fino ai primi anni delle superiori. Questo è il periodo di rischio maggiore. Quanto ai reati, per esempio, nell'ultimo anno sono aumentati quelli di sextortion, cioè di estorsione rispetto a immagini che possono essere erotiche, prodotte da bambini o da ragazzi. Sono aumentati i dati del revenge porn, quindi la vendetta attraverso delle immagini, oppure anche quella del body shaming, che non è ancora un reato, ma che crea particolari situazioni di disagio e che è una forma di cyberbullismo, l'attacco al corpo delle persone. Ecco, su questo si sta concentrando un po' anche lo sforzo, ma una delle cose più allarmanti è la voglia che hanno i giovani di partecipare a delle challenge, quindi a queste sfide in rete che possono essere davvero letali. E allora bisogna parlare con loro, spiegare cosa può essere pericoloso nel reale e cosa può essere pericoloso nel virtuale. Poi c'è tutto questo nuovo mondo, che è il mondo del metaverso, che ci prospetta verso dell'intelligenza artificiale, che ci sta facendo catapultare in qualcosa che ancora non conosciamo. Il suo ultimo libro, Figli delle app, ormai quasi tutti abbiamo appunto dei figli che vanno sempre o col telefonino o con il computer, comunque vanno nelle app e quindi possono incorrere in diversi pericoli e magari una non se ne accorge. Sì, io sono partito, quando dovevo scegliere il titolo di questo libro, da una canzone di Alan Sorrenti che ci faceva pensare a come era bello essere figli delle stelle. Si guardava il cielo e c'erano queste stelle. Oggi vedere un po' i ragazzi chiusi nella loro stanza, pensiamo anche ai tanti casi in aumento di Kikomori, ragazzi che sono proprio chiusi dentro la stanza con il loro smartphone e il loro tablet e sono connessi con il mondo ma isolati dalla vita reale. Ecco, tutto questo ci fa riflettere che i figli delle app hanno ormai un'applicazione per qualunque cosa, ma questa applicazione per qualunque cosa in qualche modo non ci mette al riparo da pericoli che invece sono insistenti e si ripetono costantemente. Come ti chiami? Aurora. Quanti anni hai? Nove. Passi tanto tempo davanti a internet? Non tutto il giorno. Ma ti piace? Sì. E cosa guardi? Di più video, giochi, che fai? Tutti e due, un po' video e un po' giochi. Ma cosa ti piace di più? Stare davanti al computer o uscire con le tue amiche o stare a casa con le tue amiche? Uscire con le mie amiche. Quindi allora non sei di quelle fissate con internet? No. No. No.